eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri ragazzuoli belli buona serata di questo sabato 4 giugno 2022 ore 19 e 06 ragazzuoli belli e buona domenica 5 giugno 2022 se mi vedi il giorno dopo perché stavo sorridendo perché ieri all'inizio del video di ieri continuavo a dire maggio 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 ero praticamente cotto lo ripeto lo ripeto questo non è il mio lavoro principale io arrivo alla fine giornata che a volte sono cotto continuo a darvi un'informazione costante un daily che dall'inglese vuol dire un'informazione giornaliera daily giornaliera per rendervi partecipi su quelle che sono notizie principali nostro milan che anche voi leggete lo so ma io vi do una riflessione e a volte vi do anche delle anticipazioni questa è la differenza sincera del vero secondo me a mio modo di vedere che non lo sono del vero giornalismo cioè io non sono un giornalista col tesserino da giornalista ma per me il vero giornalismo deve essere fatto così senza fronzoli con delle riflessioni ragionate e senza cacciare troppe idee strane nella vostra testa allora ragazzuoli belli io vi abbraccio tutti per questo sabato sera stasera c'è la nazionale questa partita me la vedrò però non mangio la pizza la cosa che mi dà fastidio che stasera non mangio la pizza mangio altro vabbè per cambiare perché la pizza l'ho mangiata pochi giorni fa ragazzuoli belli l'avete visto in copertina chars de cheletere de chetelere mamma mia il cognome di questo ragazzo qua benedetto chars chete no vabbè diciamolo chars chetelere dai diciamolo tutto allora questo ragazzino ragazzo ragazzino si fa per dire in modo scherzoso ovviamente belga di 21 anni ragazzi un classe 2001 incredibile un metro 92 allora e qui si continua con la politica che avete già capito dei giovani forti perché solo i ragazzi giovani e forti ci possono portare alle vittorie finali allora qui però ve lo dico subito non è come fino allo scorso calcio estivo che comunque i nostri ragazzi ci hanno fatto vincere il diciannovesimo scudetto grazie ai nostri ragazzi grazie mister piole nostra dirigenza proprietà grazie a tutti ma grazie anche al nostro tifo che abbiamo abbiamo sorretti però i nostri ragazzi ci hanno fatto vincere il diciannovesimo scudetto ma adesso la sticella si sta alzando si sta alzando perché l'avete ormai capito i nomi li avete sentiti maldini vuole a tutti i costi zagnolo poi ne parliamo ancora de cheletere questo ragazzo belga del giro della nazionale belga del bruges talento acclarato qui stiamo già parlando di giovani forti dai 40 milioni di euro comunque dai 30 milioni di euro in su fino a poco tempo fa l'eccezione è stata raffa e leao adesso non so se l'avete notato ve lo dico io in questa mia riflessione personale la sticella si è alzata chiaro se tu hai giocatori giovani e forti hai la capacità di gareggiare su un fronte ampio per la vittoria finale perché se tu prendi ultra trentenni che a un certo punto hanno dei guaiucci problemucci fisici puoi anche dire addio al traguardo finale di una stagione di una competizione invece il ragazzo giovane ti dà la facilità di riprendere più in fretta quelli che sono i suoi acciacchi fisici uno di questi e a proposito de chetelere anche lui ha avuto qualche guaiuccio fisico mi sono un po informato ma si è ripreso sempre velocemente stavo dicendo a proposito il nostro magico mike magnan black panther vi voglio ricordare durante questa stagione dello scudetto che ha avuto il suo guaio all'operazione ve lo ricordate al polso durante la partita di champions e come ha fatto a riprendere subito il nostro magico mike magnan grazie al fatto che è giovane ha un'alta capacità di rigenerazione molto più veloce e praticamente è rientrato in corsa nella 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 lotta che è stata poi la lotta scudetto che il nostro mike magnan ha fatto una differenza abissale rispetto all'ex portiere donna rumba chiaro qual è il concetto questi sketch per lui ci saranno sempre però insomma il nostro magico mike magnan ripreso in fretta e ha fatto la differenza abissale facendo i conti alla mano praticamente mike magnan con le sue doti praticamente io le chiamo artistiche oltre che sportive perché è un gatto è un felino pazzesco ci ha portato in saccoccia 26 punti in più avete capito testine belle allora il concetto è questo praticamente tu prendi un ragazzo giovane capacità di rigenerarsi velocemente se ha qualche acciacco fisico lo ripeto se vi andate a informare del telere anche lui ha avuto qualche guaiocio fisico ma si è ripreso velocemente ma quest'anno con il bruge in 33 presenze ascoltatemi bene come centrocampista che varia nella sua funzione può diventare trequartista e anche seconda punta udite udite ha fatto 14 gol a 21 anni questo qua poi uno mi può dire il belgio nel belgio che che razza di campionato c'è e no miei cari è molto tecnico andatevi a informare delle zucchine mie belle zucchine mie belle lo dico sempre come rafforzativo per il fatto che vi voglio bene voglio dialogare con voi con affetto non sono un tizio che vuole stare in modo distaccato per cui 33 presenze 14 gol per chias del telere ripeto del 2001 21 anni insomma baldini massara sono pazzi per lui ma ci aggiungo anche moncada perché il mercato sul lato francofono se ne occupano massara e moncada chiaro e lo vogliono tutti i costi bene la novità di oggi è che il milan ha fatto un primo approccio con il bruge il bruge dice noi vogliamo circa 40 milioni di euro più di 30 milioni di euro abbondanti però sembra filtra che c'è un margine trattativa perché il bruge non vuole contropartite ok comunque del telere che avete visto in copertina è staccato dal discorso noa lang su zagnolo ragazzi ve la faccio corta su zagnolo praticamente l'inter incasserà il 15 per cento e chi se ne frega normale era un giocatore dell'inter formato dall'inter vi voglio ricordare che zagnolo di provenienza toscana è un toscano un ragazzo nato a massa nel 1999 va per i 23 anni e praticamente udite udite la roma vuole minimo 50 milioni di euro per lasciarlo partire ma vi do una notizia clamorosa visto che zagnolo è il pupillo di maldini e a me zagnolo piace un casino la notizia clamorosa è questa è una notizia di praticamente ve lo faccio vedere con la mia watch 19 e 13 di neanche 20 minuti fa che il telegraph del telegraph e il telegraph anche hanno battuto questa agenzia di stampa che udite udite il paris saint germain è su niente meno che cos'è murigno praticamente questo cosa significa miei paciarotti belli e miei paciarotte belle cosa significa rossoneri ma anche non rossoneri se mi vedi che non sei milanista questo significa solo una cosa che praticamente via murigno dalla roma via all'automatico zagnolo dalla roma mila godo come un pazzo altra news poi vi saluto pobega prende definitivamente rimane al mila il posto di baccaiocco grande baccaiocco forse se tutto va bene visto che è arrivata una storm sheet nei confronti di gattuso dall'ex presidente il valencia raggiungerà gattuso al valencia il milan ha già ricevuto la sottoscrizione l'acquisto di quasi 30 mila abbonamenti dalla nostra tifoseria milanisti grandissimi grandi sono contentissimo e udite udite l'avete letto nel titolo di questo video gerry cardinale quando è arrivato a milano festeggiato con noi tifosi in piazza duomo e quant'altro quando ha fatto le firme per il signing per l'acquisto del milan per un miliardo 200 milioni di euro ha praticamente alle sette e mezza di mattina prima delle firme ha incontrato l'amministratore della lega di serie a luigi de servo e lo sapete già fin qui nulla di strano ma la notizia che è stata dibattuta ieri sera che ho trovato conferma udite udite questa è una cosa bellissima gerry cardinale ha dato delle indicazioni un primo abbozzo di idee per modificare la serie a cioè per renderla più appetibile più interessante in base a quella che la sua esperienza in premier league con il liverpool perché vi voglio ricordare che gerry cardinale ha in mano una bella quota sostanziosa del liverpool fc football club e soprattutto delle club sportivi americani che lui ha negli stati uniti in cui partecipa negli stati uniti allora ragazzi questa è una cosa molto importante qui non è un conflitto di interessi perché gerry cardinale il proprietario del milan mette becco nella serie a qualche maligno dirà ma è uno spettacolo perché praticamente gerry cardinale lo sapete già vuole trasformare in milan una media company a 360 gradi per far diventare il simbolo milan un brand e praticamente darà delle indicazioni la serie a e sembra che la serie a le abbia recepite per far crescere sto benedetto fatturato forza milan sempre comunque ovunque noi ci vediamo lunedì è uno spettacolo solo se c'è qualche notizia flash molto importante domani ciao